Musica Un'altra coltivazione illegale de canapa è scoperta in Sardigna, Pustir de Cussas in Santuengio e Pimentel, Cassadar de esos carabinieri de su comando provinciale de Casteldu, Sapo de esos carabinieri de su comando provinciale de Aristanes, Kinsy Squadrone li portao Cassador de Sardigna andasse a sequestra un atere in Villa Sant'Antoni. Sol militare san arrestao Cassandell in Grimines, un upizzino de 21 anos, operaio agricolo de Zenis, e anna denunzia un allevadore di Nugoro de Baranta Batorano se un uzovano de 21 anos ordeales pro produzione, coltivazione e possessi in concorso de droga. Da esas analisi vattar da esuris de Casteldu il risulta un livello de THC desuquimbe prokento, sol militare si su una posta os ansegia uso stress che ancominzau a casecares o frores, prus crompios o garrigandelosi in duno pick-up e firmaos in duno posto de controllo uso stressi che su un fughioso, ma sos carabinerisi de retu anari intracciau su pizino de 21 anos, sos a terror duos appustisi. Sol militare sanare recuperau quinto kimbatachilor de Mariuana pro un valore de 3 milioner de euro. Uno scanto scontrolloso in sos caminor de Sardinia d'Italia pala de esos incidentes. A Lunar er esordato si statu duamize 23 e duamize 22 su tanto de esos incidentes rispetto a sanno passava esta barraubel esumatessi. Uno dato che recchede de mudare passo, vinza spessande a sos obiettivo de su progetti europeu, de mesare esutanto de mortos intros duamize 30 e de arribare a non bindare mancuno intros duamize kimbanta. Un impinno manda adennantir desa polizia estradale dande cara ammescamente a sorzovanoso chiusunu sos prusir ventiar guidande. Er galubivus ammentu des incidentes capitau in castellu, uve su decadde capitanes unu morto orbatto spizzinnoso e estistau pezziunu desus incidentes mortales capitau sin cussacchida tragica chi abidu undichi persone mortas. Semper i sambitu desa prevenziones nesa polizia de stado desu nova subindichi desantu gabine hatta a controllare simpre o curretu desa alcintura desa ecureza e desu telefoneddu guidande. Uno dibattido che insosi studenter desu liceo e scientifico vermi denugoro che va che imparte desu progettu ASOC. Sospizino desu servizio civile digitale sa stestata giornalistica spro comprendere ca nessuno sa politicas europeas in sambitu desa agenda desa Europa sosprofettos pro cittadinos e territorio spessandias as eleziones europeas che san affacchere in lampadar desu duamize e binti battoro in sinteri de custagno europeo desa scompetenziasa den portumano per arribare a crompire esos obiettivo desu green deal e desa transizione digitale. Sa rappresentanzi italiana desa Commissione Europea esta arribada innantisi a Sardinia a Pustis a Nugoro custo manzano grazie a sa collaborazione che insufficio dei collegamenti desu parlamenti europei in Italia sa fondazione desa Sardinia e sa centros Europe Direct. Antonio Parenti direttore desa rappresentanzia ha risposto a sardimandra desu spizzinos che amperto a causa stemas prusatuales desa verruvia desa immigrazione desa dispersione e scolastica desa selezione europea desa educazione digitale. Una palestra in sagra libera contra sumorbo de Parkinson è una desa proprietà Bela a Pustis sa pubblicazione desa resulta desu progetto promostrare chiss'attività demotoria potete essere un alleao promesorare s'equilibrio sa mobilidade funzionale sa capacidade ed esercizio in sospazientes che incusta a patologia. Uno desafio manno che aoglie nemmor mai ha approvato su sozio culturale Perdas Novas che in sazzuto da esperto del mondo accademico culturale e scientifico chiede fravicare uno nuorache complesso trilobau insarto dei gergei che ricorda ed impreare esas tecnica del tempo nuoraches che materiali sa disponimento in suo territorio Un progetto di ambizia manna provalorizzare esa civiltà denoragica in Sardegna desacali si va a vedere attendo un convegno internazionale architetture di pietra che è stata a facer da esudecchia su dochi di Sant'Andrea in sospomun er deserri isili e gergei e l'ana presenta questo manzano in sasede della fondazione di Sardegna in Casteldu tra il dia di studio e confronto è stata a poter visitare su cantieri di archeologia sperimentale Isperdas uve su un facend desas prova a sprovare a vicare su cucuru desu nurache a Tolos a